Musica Ciao a tutti ragazzi sono SilverDX e in questo nuovo video sono qui a giocare a Need for Speed Carbon In questo nuovo episodio pieno e ricco di azione Allora facciamo una gara autovelox, questa modalità mi è sempre stata sul cazzo ma facciamo Macchina rosa per una testa di ciula, ah no non è quella quella, macchina piula per una testa di ciula Ma vabbè, spero che non si senta più alto il volume del gioco che il volume della mia voce, spero proprio di no Allora adesso dobbiamo cercare di andare a una velocità tale da riuscire ad appunto finire per bene Ah che cazzo sto combinando mio dio, aia, 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 che cazzo, che cazzo di macchina Mamma mia nell'orecchio c'è il volume al massimo, c'ho qua, uh che drift, che drift ragazzi ancora devo farlo No 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 no, qua devo accelerare il più possibile, quindi diamo un colpo di accelerazione Che schifo c'è, così lezzi siamo, mamma mia Cerchiamo di far, no 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 no, levati tu Cerchiamo di farlo per bene questa gara, almeno questa Non dobbiamo fallire, non voglio fallire nelle gare autovelox Però che è bello che stanno fino a otto avversari, cioè mi piace questa cosa Mi fa sentire in compagna, anche se non ne vedo nemmeno uno qua No, non ci riesco, ma perché mi contatta la gente, ma perché non arriva col cervello quando registro Meno male che lo scrivo su steam Non rompete il cazzo quando registro, e loro continuano a rompere le palle Ora mi dite perché, solo questo, capi, perché non ci riesco, come non ci riesco, ma cosa non ci riesco Eh, che cazzo sto facendo Drift 3, 4, quarta marcia, mamma mia 440 qua, sempre i stessi chilometri orari, ma perché? Perché? Cioè questa è la velocità base della macchina, più di tanto non va Mamma mia, però che cazzo di Cadillac, che è? Ah, non è una Chrysler Chrysler RSRT Che cazzo è questa? Non sa che non la conosco O Cadillac, che cazzo? No, no, Cadillac, come si chiamava quell'altra? No, Chrysler, l'avevo ragione io No, però non mi sembra di conoscerla così amatorialmente Poi l'avrò usata una volta e basta nella mia vita Nella mia vita da pilota dei videogiochi di corse, così Vai Ah, sì, sì, ho capito che macchina è Ah, assomiglia molto a una Cadillac, una Rover Se non tanto, là stiamo come macchine Perciò lo stile è sempre masco del cazzo americano e berline della minchia Non so più che stile dare, che nome dare a ste macchine Madonna, ma che sto combinando Sono tutte mischiate, tutte prese da una e mischiate con quell'altra Guardate, guardate che auto Allora, mo' andiamo, mo' andiamo di qua Mo' si deve accelerare tutto, 166 Ma a botta di culo, perché è facile questo Cioè, se era più difficile col cazzo che stavo prima Cioè, guardate, è impossibile proprio vincere così Tutte queste curve qua, non si capisce una minchia Non si capisce una piada minchia Nooo, boom Dove sto andando? Perché? Perché sto facendo questo? Andiamo avanti, andiamo avanti 107, 180, 190, 200 200 km orari Mamma mia Dove andiamo, dove andiamo? No, no, è quasi finita la gara, è quasi finita la gara autovelox Autovelox Vai, oh, boom E finisce la gara, mamma mia ragazzi Andiamo avanti, andiamo avanti Ok, questa cos'è? Una gara battaglia Sblocca gara battaglia argento Che cazzo è la gara battaglia? Vincere una battaglia sul tracciato del centro Contro un avversario facile Ah, un avversario è una sfida così a confronto Sinceramente questa modalità non l'ho mai fatta Perciò scusatemi Che cazzo è? Tutte queste macchine qui, sì, ma... Ma dov'è l'altro avversario? Qua l'altro rivale Io conto sono belle tutte queste macchine Vederle così È proprio bella come cosa Una golf, tutte... Sì, ma fammele vedere Non mischiarmene Non confondermi Cosa... Ma questa è la macchina del primo... Del primo... Come si chiamava quel... Quello là? Del primo Fast and Furious, il film L'eclipse della prima gara che faceva Non era questa Vabbè, la mi stupisce Eclipse Cos'è che dovrei fare io? Non mi ricordo Non mi ricordo sinceramente Battaglia Che cazzo fa? Cosa devo fare? Aiutatemi Aiutatemi Contro un avversario Cosa devo fare? Cosa devo fare? Aiutatemi Cosa è sta modalità? Non l'ho mai fatta Vabbè, io corro Quel che succede, succede Voi, levate Perché? Perché non si levano davanti al cazzo? Ah, ora so settimo Perché? Ah, ora so sesto Ah, ma siamo 4 contro 4 Tipo le gare di gruppo A e gruppo B Ho capito com'è Quindi adesso... Ah, no, no, non è così Oh, dove sta andando? Boh, una gara normale la vi do Non vi levate davanti alle palle Con la golf del cazzo, lì Volkswagen Golf di sta gran minchia Che schifo di macchina Mica come sta scappando Oh, Maron Dove cazzo vado qua? Cioè, così distruggo il motore in realtà Facendo, scalando e... Ehm... La marcia, sì Ecco quello Ingranando, scalando la marcia Così sto distruggendo il motore Dai, diamo un po' di accelerazione Perché la macchina ne ha proprio pochissima A quanto vediamo Eh, più di 5 marci non va Che palle Ma che cazzo di macchina di merda è? Poverina, poverina Mi subisce clips, poverina Dove cazzo devo andare? Non c'è un motore per cambiare la visuale qua? No, non l'ho messo Ma perché? Ehm... Ma faccio sempre casino con i tasti Wiii Mica come sta squasciando il motore adesso? Come sta ammaccando tutto? No! Non ho messo un altro volo Ecco un altro volo Del cazzo Vai che curva Mi chiamavano il boss del gioco Mi chiamavano il boss Quinta marcia Scaliamo in quarta Vai 3G su una... Che palle Che palle Che palle di gara Che palle di gara Ma perché incomincio le serie così Se poi non riesco e non le voglio finire? Perché? Mica come sta andando dentro? Ma questa serie l'ho fatta pure su Need for Speed World Quando l'ho giocato così Boh Mi pare non le stesse Poi non lo so Magari mi posso pure sbagliare Non lo so Non lo so Uh Tempo sul giro 2 minuti e 10 Dove cazzo vado Ma che marmittone che c'è Guardate c'è Che tubo di scarico della misera L'ha preso dai cinesi L'ha preso E però I cinesi qua sotto casa Vendono lo stesso tubo di scarico 12 euro Tanto Tanto E' enorme Poi E' quella che accelerazione Che dà sta strada Ogni volta io cambio la marcia Questa strada Guardate che accelerazione Che dà Ecco mo sto usando io Le due o Dove vai? E' il quinta marcia No Dove sto andando Ma perché sto facendo Tutto questo casino No no Sto passando sulla ferrovia Ma non passa mai Il treno qua Il tram Su questa ferrovia Ma sono ferrovia Ferri Che cazzo sono questi qua Ma questa è la strada Dove sono spawnato Su Need for Speed World L'ultima volta Mo ricordo ancora Io che c'ho una memoria Di merda Mo ricordo Perciò pensate un po' Come Come sto Come mi ha condizionato Questo gioco Questa serie di videogiochi Ho condizionato la vita Cosa sto combinando Guarda Come si può sciare tutto No In salita qua Ed è che sto vincendo Però qualcuno si è scattato Si è scchiettato là Ma sarà una gara normale Non ho capito bene Come cazzo è sta gara Come si Dovrebbe sviluppare sta gara Non mi dite che dopo sta gara Mi tocca finire la puntata Perché se no arrivo subito a 10 minuti Che palle Che palle Questa cazzo di copyright Del cazzo che mi blocca tutto Non finirò mai la serie così Non finirò mai 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 Vabbè vado Giamo di qua Mamma mia L'eclipse Boom Tempo sul giro 1.47 No 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 Guardate che curva Mo chiamavano James Bond Ma cazzo Cioè che cazzo c'è entra Perché Perché Quinta marcia Cosa sto combinando Ma perché Vai vai Accelerazione Guardate Cioè mi chiamavano Gesù Cristo Mi chiamavano In quanti mi chiamavano In quanti mi chiamavano No Dove vado Dove vado No Perché Comunque ragazzi Volevo ringraziarvi per Avermi Consigliato Belle cose Nell'ultimo video Non so quale Ultimo video caricato Ma avete Insomma sono proprio quello di WRC powerslide WRC powerslide La Come cazzo si chiama Grazie Grazie mille Prenderò atto di quel che mi avete detto E Niente ragazzi Era solo per ringraziarvi Così me l'ho dimenticato di dirlo Me l'ho segnato Sul Su come si chiama Sul copione C'era scritto che dovevo dirvelo Tipo all'inizio del video Invece no Te l'ho detto adesso Perché il copione non esiste Perché non si illuminano le luci A sta cazzo macchina Cosa cazzo sto facendo Perché 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 Ma non posso fare nemmeno il salto Fighissimo Che palle Perché Oddio Oddio mi stanno raggiungendo Oddio Sta Mitsubishi Eclipse Cioè è fantastica È bella È bella però è una macchina di merda Però è bella Ma è una macchina di merda Però è bella Dai che è quasi finita la moto Oh ma perché Quando dovevo finire Sta cazzo di sedia Quando dovevo finirla Metto l'angoscia La gente Direi quanto cazzo finisce Quando Quando tutto questo Quando Vai No Perché è lenta È lenta È lenta Sta macchina È lenta È lenta Scusa 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 Ma quando arriva argento e oro Là le gare come sono Cioè le macchine sono potenti Boh Sei arrivato primo Hai sbloccato una gran minchia Ehm C'abbè una sfida C'è point Point E poi Boh Finisce Che cazzo è sta roba Gara battaglia Sfida in solitario stavolta Boh Non lo so che cazzo è Beh ragazzi Per questo video è tutto Ricordate di lasciare like Anche se non potete Se il video vi è piaciuto E di iscrivervi al canale E Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 a tutti